Cambia qualcosa della ricorsa. Tutti i suoi sono questi? No, non ci posso chiedere. Non lo so, però può anche darsi. Ha tappezzato la seconda grossia. Sì, beh, se ha scelto il mazzo di percolore, sono tutti i suoi. Quindi deve andare un pochino indietro perché evidentemente era sotto, nel punto di stacco. Allora anche qui dovesse arrivare il salto al primo tentativo. Ancora un match point per Gianmarco Tamberi, l'atlete dell'Estatron e Gianmarco Tamberi è pronto per saltare. E sto facendo di vigni, è pronto da andare a raccogliere il suo primato personale che arriva. Gianmarco Tamberi, match point, e lo fa, e lo fa, e lo fa, 2.30! Lo fa, 2.30! Ciao!